ciao raga bentornati sul mio canale youtube finalmente siamo entrati nel periodo più otteso dell'anno quello dei toti la squadra dell'anno che ieri ha subito debuttato col botto con due sbc molto interessanti che so tantissimi di voi hanno adocchiato e vogliono sapere si tratta di giocatori che vale effettivamente la pena di andare a sbloccare e di mettere all'interno delle nostre squadre per cui oggi andiamo a parlare di bruno flashback e di george best nella loro versione sbc dopo averle testate vi dico come sa penso partiamo dall'analisi di george best giocatore che conosciamo molto bene perché un'icona che ci portiamo dietro da un po uno dei giocatori più iconici davvero nel vero senso di questa parola della storia un esterno destro che nella sua versione ai contoti si è beccato 5 di skill e 4 di piede debole un metro e 75 di altezza quindi ha avuto il potenziamento delle skill cosa molto gradita per un esterno sapete io come la penso per me l'esterno deve avere 5 skill per fare solo a scupturno che è una skill fondamentale tipo di accelerazione esplosiva con piede preferito il destro può fare svariati ruoli quindi ritorna molto utile per le nostre ibride perché c'è le d il coc e la s oltre alla d ma veniamo adesso a guardare le statistiche allora per quanto riguarda la velocità abbiamo un 94 di accelerazione un 92 di velocità scatto parametri che io onestamente ho trovato un po fake per quale motivo questo best sul doppio passo ovvero sul primo scatto da abbastanza margine sul avversario che vuole andare a saltare cioè si vede che ha un primo passo effettivamente bruciante però dopo di che saranno le gambette saranno che o mille fattori ho notato che viene recuperato un po troppo spesso dai giocatori che se lo vanno a marcare a questi che siano terzini belli grossi fisicamente ma anche terzini più piccolini come la bon pastor che vedete in queste clip ma anche banalmente quando mi è tornato a difendere l'avversario con mia m ma recuperato nonostante sto best avesse chilometri di vantaggio ho trovato che facesse anche molta fatica ad andarsene via dopo aver fatto l'allungo del pallone avete visto anche qui nelle clip con maldini come maldini abbia messo il fisico davanti e best non si è riuscito a superarlo quindi sulla velocità onestamente sono rimasto un po perplesso per quanto riguarda la finalizzazione invece e la potenza tiro sono dei parametri assolutamente veritieri best davanti la porta finalizza discretamente bene ma anche lontano dalla porta perché c'ha un ottimo tiro dalla distanza per quanto riguarda i passaggi 86 di corto bene l'81 di lungo con i filtranti un pochettino mi ha lasciato così perché su una carta del genere 81 di lungo considerando che deve fare il terzino o tanti di voi magari lo vorrevano giocare anche tre quartista e beh insomma vi assicuro che non è proprio il massimo della vita per quanto riguarda il dribbling abbiamo 93 di agilità 91 di equilibrio 90 di reattività con 70 di forza per un giocatore di un metro e 75 comunque con un discreto body type anche in questo caso secondo me abbiamo a che fare con dei parametri abbastanza fake fake per quale motivo perché palla il piede questo best risulta sia agile ma alle volte anche tanto impacciato quindi mi è sembrato che alle volte non fosse così reattivo e responsivo a quelli che erano i micromovimenti risultando così abbastanza goffo e di facile preda per i difensori soprattutto quelli col procione che coi contrasti ti mettono i piedi da tutte le parti quindi anche questo parametro qua sinceramente non mi ha convinto per quanto riguarda il dribbling e il controllo palla invece vi dico molto bene perché quando si tratta di skillare soprattutto con elastici suole scoop turn la palla la tiene incollata al piede e su questo non gli si può dire niente per quanto riguarda invece le cose che ci interessano questo best ha il playstyle plus del tecnico il playstyle plus del primo controllo e in più c'ha il playstyle del talento naturale dell'insonista e del razzetto argento molto grave la presenza del razzetto argento per quanto riguarda il discorso velocità perché vi ripeto mi ha triggerato parecchio quel 93 abbinato a sto razzetto che non pare proprio 93 molto bene il tecnico molto bene il primo controllo molto male tutto il resto perché questo best non ha assolutamente playstyle per quanto riguarda i passaggi rendendolo abbastanza deficitario se lo si vuole utilizzare tra tecquartista per non parlare del fatto che non ha neanche playstyle per poter segnare non ha il playstyle del tiro a giro non ha quello del tiro potente né tanto meno quello della trivela nonostante comunque con la trivela non si comporti male come tanti giocatori che comunque alla fine hanno un buon tiro non ci dimentichiamo che poi stiamo parlando di un giocatore dal costo di un milione 800 mila crediti in sbc per cui la domanda è ma te ma quindi questo best è da sbloccare? prevenso che le sbc da sbloccare secondo me sono sempre molto poche perché nessun giocatore è must have io questo best considerando le alternative scambiabili e considerando ancora tutto quello che dovrà uscire durante il periodo toti onestamente non ve lo consiglio perché è tanto costoso piuttosto vi prendete una hands and trailblazers scambiabilissima che costa molto meno che gli dà una pista a sto best voto 7 si poteva fare di più secondo me con questo giocatore qua che per me ogni anno vorrebbe essere un top player ma si ferma sempre un pochino dalla linea del traguardo andiamoci a vedere adesso questo brunello fernandez 1m79 alto alto il workrate 4 stelle skill e 4 di piede debole con piede preferito destro e tipo di accelerazione più esplosivo quindi una carta che insomma si presenta a guardarla perfetta per poter fare il cc sia in un 4-4-2 sia che in un centrocampo a 3 come mezzala un po' più offensivo finalmente gli hanno alzato il piede debole e quel workrate lo fa rendere benissimo sia in fase offensiva sia in fase difensiva mi ha ricordato un po' il de bruin toti dell'anno scorso che praticamente era uomo ovunque ve lo ritrovate in area di rigore vostra a difendere poi catapultato nella metà campo avversaria per fare la vostra azione può fare il cc anche come ruolo secondario quindi molto bene per quanto riguarda le ibride giocatore che ho trovato discretamente veloce nonostante non è che questo bruno fernandez giocandolo a centrocampo ci dovete fare le cavalcate però quando si trova palla al piede rovescia bene il fronte abbastanza rapido potenza tiro 94 finalizzazione 89 e tiro dalla distanza 94 molto bene per un giocatore che sa anche finalizzare bene perché con quei parametri lì vi assicuro che non vi deluderà anche quando si tratta magari di trovarsi in zona pericolosa e scagliare una conclusione verso la porta avversaria per i passaggi non ve lo sto neanche narrando 94 di passaggio corto 96 di passaggio lungo 90 di effetto questo è praticamente demone raramente sbaglia un passaggio con il 4 di piede debole non c'è neanche più il problema del mancino con il quale prima di solito cagava qualcosina ma perché appunto lo portavamo noi sul piede debole veramente molto 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 bene e godurioso questo bruno sotto il profilo di assist man per quanto riguarda l'agilità 83 di agilità 84 di equilibrio 96 di reattività e quel 70 di forza che non è tanto per un giocatore di un metro e 79 ma comunque dotato di un playstyle abbastanza esile paradossalmente ho riscontrato che coi micro movimenti si muoveva un altro po' meglio bruno di best quindi anche bene sotto quel profilo lì anzi quell'83 di agilità è abbastanza fake e boostatissimo da quel 96 di reattività che fa tutta la differenza di questo mondo bene anche le stats difensive se vogliamo perché abbiamo un 80 di lettura un 77 di intercettazione che sono comunque ottimi come parametri 86 di contrasto in piedi 90 di aggressività 99 di resistenza una carta questa che sotto il profilo anche difensivo si fa sentire veramente veramente tanto e poi vi ripeto visto il suo work rate ve lo ritrovate sempre in mezzo anche alle linee di passaggio sempre al ridosso degli avversari quindi molto facile anche difendere con questo giocatore qui andiamo a vedere adesso i playstyle perché con i playstyle qui c'è veramente da godere e partiamo con quello plus che è il playstyle del passaggio lungo questo qua vi fa degli L1 triangoli che sono da sogno veramente una roba clamorosa i passaggi lunghi che fa questo Bruno tanta roba anche il passaggio incisivo il passaggio calibrato per completare il repertorio di playstyle per quanto riguarda sempre la fase di assist che poi abbinati a quei parametri di passaggi lì non ve lo sto neanche narrando poi abbiamo due difensivi molto buoni ovvero il playstyle base del procione e dell'intercetto questo intercetto argento anche qua si sente veramente tanto abbinato a quel 77 che gustato con un'ombretta sicuramente sale a dare fastidio e in più essendo un metro e ottanta sto Bruno non è neanche piccolino quindi sulle linee di passaggio lo sentite che è una bellezza poi c'ha talento naturale primo controllo primo controllo anche in questo caso molto bene perché quando stoppiamo il pallone sui driven pass teniamo subito la palla disponibile per poi poter calciare o fare un passaggio e poi abbiamo anche la batteria e la trivela in particolar modo la trivela su questo Bruno Fernandez vi dico molto bene perché la fa alla perfezione andando ad abbinarsi a un 94 di potenza tiro e un 94 di tiro dalla distanza quindi strivela che è un amore e sappiamo come quest'anno la trivela possa essere una risorsa quindi arriviamo anche in questo caso la domanda fatidica ma te ma sto Bruno quindi è da sbloccare? sicuramente è più da sbloccare rispetto a Best perché il costo è un costo di 800.000 crediti concorrenziale con quelli che sono altri giocatori in quel ruolo perché secondo me è superiore a De Jong secondo me è superiore ad un Bellingham è superiore anche rapporto qualità prezzo secondo me ad altri giocatori come Zidane che è vero che è forte 5-5 tutto che volete voi però questo Bruno a livello di playstyle è pazzesco e costa anche la metà oltre che facilmente imbridabile essendo portoghese Premier League Manchester United per me lui promosso a pieni voti voto 8,5 ragazzi anche per questo video è tutto come al solito nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate se avete sbloccato già uno di questi due se lo farete e perché io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto nel vostro Liberoschi e a presto ciao 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 Grazie a tutti